ok ricky oggi è particolarmente bacioso la parte più bella per me è sempre quella in cui si baciano in cani anche io i miei metto sempre la lingua in bocca c'è poco da fare che cazzo viene fuori allora guardate gabri ferragni è secondo me l'animale più fortunato del mondo dopo i miei ovviamente perché sono molto più viziati di questo cane i miei dormono assolutamente con me tutti e cinque qui sarà questa Francesca Ferrani credo con questa mano che si prende cura della nostra gabri davvero il nostro ormai è diventato il nostro amore grigio questi sono gli auguri di Matteo Napoletano a Valentina Ferrani che compie quanti anni ancora non lo so mi dispiace questi invece sono gli auguri di Maria Di Guardo auguri uguali mia e poi Francesca Ferrani alla sorella e questo è adorato Pablo bene vi lascio così ciao